C'era una volta un povero mago che si chiamava Girò. Inizia così uno dei tanti bei racconti di Gianni Rodari. Mago Girò è un povero mago perché da un pezzo non ha più clienti. Ma possibile, si disperava, che nessuno abbia più bisogno di me. Una volta avevo tanti clienti che non riuscivo a tenere dietro a tutti. Quindi, voglio un po' andare in giro per il mondo a vedere cosa è successo. Se è comparso un mago più bravo e più potente di me, lo voglio conoscere. E così mago Girò arriva a casa di una signora e le offre i suoi servizi. Un mago, che bellezza! Un mago sì. La vede questa bacchettina? Non sembrerebbe, ma è una bacchetta magica. Se io dico due paroline, due parolette che conosco soltanto io, una stella scenderà a far luce nella sua casa. A questo punto la signora lanciò un piccolo strillo. Uh, a proposito di luce, mi faccia accendere. Stavo qua sola con i miei pensieri e non mi ero nemmeno accorta che diventava buio, mi scusi tanto. Ecco fatto! Che cosa mi stava dicendo a proposito di luce? Ma il mago era troppo stupefatto per poter riprendere la conversazione. Guardava la lampada con la bocca spalancata, come se volesse inghiottirla. Ma signora, come ha fatto? Come ho fatto? Ho girato l'interruttore e la lampadina si è accesa, no? Gran bella cosa l'elettricità. Mago Girò registrò nella sua mente questa parola nuova, l'elettricità. Ecco, sarà questa la maga che mi fa concorrenza. E mago Girò viene così a scoprire un po' per volta che il mondo è cambiato. Ci sono nuove strategie in circolazione. L'elettricità, che rende inutile far scendere la stella in casa. Il telefono, che fa sentire la voce di persone lontane anche senza versare polverine magiche nei bicchieri. La televisione, che fa vedere le persone lontane senza bisogno di intrugli misteriosi. E comincio a capire perché il lavoro è diventato così scarso, dice, con tutti questi maghi in circolazione. Il mondo è cambiato. C'è ancora posto per mago Girò in quel mondo così diverso dal suo? Anche il nostro mondo è cambiato. Perché tutto ciò che vive cambia. Di natura sua si trasforma. Tutto ciò che è vivo si sviluppa in nuove forme. A volte noi discepoli di Gesù ci sentiamo un po' come mago Girò, no? Non è così? Come un po' fuori dal mondo, no? Che è tanto cambiato e cambia tanto rapidamente. E ci lascia un po' disorientati, no? Sentiamo di avere ancora qualcosa di prezioso da offrire. Ma sembra non essere più al passo con i tempi. E che altre ricchezze, altre qualità dei tempi abbiano preso il posto del nostro bel racconto del Vangelo. Del nostro bel modo di celebrare la vita e la sua bellezza. Oggi celebriamo la solennità della ascensione di Gesù al cielo. Luca ce l'ha raccontato. Il maestro risorto prende con sé i suoi discepoli e li porta sul Monte degli Olivi, appena fuori Gerusalemme, e, dice il testo, si staccò da loro e fu portato in alto, verso il cielo, finché una nube non lo nascose ai loro occhi. Come dico spesso quando racconto tutto questo ai miei liceali, mi sento come mago Girò, no? Come mago Girò con la signora. Questi mi guardano e dico nome. Hai fumato? Dai, prof. Capisco che chi ho davanti sta già parlando un linguaggio diverso. Perché il mondo è cambiato, naturalmente, rispetto a quando questa pagina è stata scritta. Come abbiamo detto altre volte, l'immagine del cielo è un'immagine straordinaria, che ci parla da sempre. Ma il cielo del primo secolo, il cielo di Luca, che ha scritto questa pagina, non è il cielo nostro. Il suo modo di leggere il cielo non è il nostro. Per Luca il cielo è ciò che è irraggiungibile, ciò che è indisponibile all'uomo. È la dimensione divina, è la dimensione oltre. E quando un uomo sale al cielo, viene portato al cielo, è l'immagine del suo ingresso in una realtà divina assolutamente oltre. È il mondo degli dèi, è il mondo di Dio. Gesù viene portato in cielo, si stacca dai suoi discepoli. È un'immagine per dire che la presenza del risorto adesso è diversa da prima, indisponibile, non dipende da noi. È abbracciato dalla presenza di Dio, insomma, come si può dirlo? Ma non possiamo più semplicemente dire che Gesù si è staccato dai suoi discepoli ed è salito. Prima guardavo dalla finestra durante la lettura, mi veniva in mente quando da piccolo si guardano i palloncini che salgono, no? Finché non vengono nascosti dalla nuvola. Noi se oggi raccontiamo la presenza del risorto in questo modo parliamo di un divino palloncino, siamo incomprensibili, perché oggi il cielo non è più irraggiungibile. Uno prende l'ascensore e sale in alto, al tempo di Luca no, uno prende l'aereo e attraversa il cielo, prende il missile e se ne va. Se no per forza appunto nel 61 Gagarin dicono che abbia detto scendendo dalla sua missione intorno alla Terra Dio non c'è, io non l'ho visto. Ma per forza perché il mondo è cambiato, il linguaggio è cambiato. Che cosa faremo? Ci intestardiremo a proporre alla Signora le nostre magie? Per far luce in casa, anche se lei può accendere la lampadina? Rodari per il suo racconto su Mago Girò ha immaginato tre finali diversi. Nel primo finale il mago decide di scappare lontano, di andare in uno dei tanti posti di cui ha letto sul giornale, uno dei tanti posti al mondo dove ancora non ci sono elettricità, telefono, le diavolerie moderne. Laggiù dice ci deve essere ancora del rispetto per i bravi, vecchi, maghi di una volta. Quando il discepolo di Gesù fa così sta dicendo che il mondo di oggi, quello nostro in cui viviamo, quello del ventunesimo secolo, il mondo secolarizzato, non è terreno buono per il Vangelo, che il mondo è cattivo e che il buon senso del Vangelo, il buon seme del Vangelo non attecchisce perché qui non crescerà nulla di sano. Sostanzialmente il discepolo di Gesù quando dice così sta scappando perché non si sente all'altezza della sfida e ne incolpa la cattiveria dei tempi moderni e in questo modo manca al suo compito. Nel secondo finale Mago Girò diventa un imprenditore. Affitta un grande locale, si mette a vendere apparecchi elettrodomestici, anche a rate, e in breve diventa un ricco negoziante. Si comprò l'automobile, dice Rodari, una billetta sul Lago Maggiore, una barca a vela e la domenica andava a spasso sul lago. Quando il discepolo di Gesù fa così si sta arrendendo, cerca potere, comodità, si siede nel molle del mondo, diventa mondano, dice il Papa continuamente. Non ha più niente di significativo da dire, non parla più con il fuoco nelle parole, non accende l'immaginazione di chi lo ascolta. Quando il discepolo di Gesù fa così non suscita nostalgie di un futuro più umano, perché è aperto al cielo che ogni uomo già porta in sé. Quando fa così, il discepolo di Gesù è diventato un profeta muto, è come sale senza sapore, dice Gesù in un passo del Vangelo. è diventato una creatura inutile e assurda. Ma Rodari diceva che lui preferiva il terzo finale che ci regaliamo. Che lezione quel giorno per Mago Girò! Se fosse stato uno sciocco si sarebbe proprio scoraggiato, ma sciocco non era. Capì invece che le meraviglie scoperte nella casa di quella signora non erano opera di magia, ma conquiste della scienza. E siccome aveva anche molta immaginazione, egli si disse ma guarda quante cose hanno inventato gli uomini senza la bacchetta magica, solo con il loro cervello e il lavoro delle loro mani. Ma chissà quante ancora se ne possono inventare. Voglio dare le dimissioni da Mago, diventare un uomo comune e studiare per scoprire qualcosa di nuovo. E poi camminò più leggero e più contento verso la sua nuova vita. Gesù, come sappiamo, inventava e raccontava storie. Nelle sue parabole troviamo spesso dei maghi Girò, uomini che hanno qualcosa di prezioso da offrire al mondo e che quando si rendono conto che il mondo è cambiato, che le circostanze sono cambiate, sanno osare, sanno rischiare il cambiamento, sanno reinventarsi, sanno esplorare nuovi linguaggi. La potenza e la ricchezza che hanno tra le mani sa diventare qualcosa di attivo e di propositivo anche in un mondo diverso. I primi discepoli hanno vissuto questo travaglio. Abbiamo sentito nel racconto di Luca, no? Guardano il risorto salire al cielo e restano lì con lo sguardo fisso finché non vengono accostati da due uomini in bianche vesti. L'immagine della potenza celeste li avvicinano e li richiamano uomini di Galilea perché state a fissare il cielo? È alla terra che dovete guardare. È la terra che siete chiamati a lavorare. È al fondo delle cose che troverete il risorto. Lo spirito respira nella materia. Oggi siamo incomprensibili se diciamo che il mondo è brutto è cattivo ah lo spirito invece è buono verrà la vita dopo la morte allora sì che sarebbe ma che cosa? Ma il mondo che ci ha dato è questo qua. Lo spirito respira nella materia. Oggi per essere comprensibili per essere per rispondere alla nostra vocazione di annunciatori della buona notizia forse facciamo meglio quando diciamo che Gesù non è in cielo Gesù è al fondo delle cose. Lo spirito si è fatto e si fa continuamente energia che vibra negli atomi nelle molecole del mondo e vuole rendere vivo ciò che non è ancora abbastanza vivo e vuole rendere bello e buono ciò che non l'ho ancora abbastanza. Il Vangelo non ci parla di un altro mondo che sarà più bello di questo che invece è tanto brutto. Noi non siamo come il mago Girò del primo finale noi non scappiamo da questo perché non ci piace per rifugiarci nel mondo futuro che sarà bello noi non fuggiamo noi ci immergiamo noi ci impegniamo perché amiamo il mondo così com'è e perché solo di ciò che si ama ci si può prendere cura davvero perché il discepolo di Gesù è appassionato della terra della scienza della letteratura dell'arte dell'economia della musica sa che il mondo è grande che i modi in cui i popoli si esprimono sono tanto diversi e che i modi per celebrare il mistero della vita sono tanti e meravigliosi e guarda con una profonda simpatia a tutto questo il discepolo di Gesù sa che vivere è un travaglio è un dramma non una tragedia ma un dramma qualcosa in cui la lotta non capita ogni tanto ma è una condizione normale dell'esistenza e il discepolo di Gesù sa come il suo maestro il discepolo di Gesù come il suo maestro ama tutto questo gli piace tanto il mondo si trova bene nel giardino del mondo è solo il fondamentalista che non sta bene nel giardino del mondo ma quello è un problema suo allora il discepolo di Gesù non si sente fuori posto anche nei tempi di oggi è come il mago girò del terzo finale è grato di stare al mondo e di poter dare il suo contributo a renderlo un po' più umano oggi è il quinto anniversario di pubblicazione della laudato sì di Papa Francesco un canto appassionato per la nostra casa comune in un passo dice così prestare attenzione alla bellezza e amarla ci aiuta a uscire dal pragmatismo utilitaristico quando non si impara a fermarsi ad ammirare e apprezzare il bello non è strano che ogni cosa si trasformi in un oggetto di uso e abuso senza scrupoli studiare e così amare il nostro mondo questa è l'avventura del discepolo di Gesù e di ogni uomo e donna di buona volontà lo spirito del Signore ci accompagni di Gesù di Gesù di Gesù di Gesù Grazie a tutti